perché ci metti le zampe qua? dimmi perché ci metti le zampe qua? guarda roba gatto a zona oh non ti piace sti biscotti pofulez gatto a zona non ti piace non ti piace so che non ti piace guarda roba innanzitutto allora io devo andare in palestra perché ho il gruppo tardi e quindi mi bevo solo il caffè pofulez Nicola guarda gatto a zona ma guarda una roba c'è guarda cosa ha fatto ma guarda una roba pazza questa qua niente le piace questi basta così vabbè dai gatto pazzo che ora sono? sei meno un quarto mangio bevo questo caffè che cappuccini orzo con caffè e poi vado in palestra stringo qua che se no gatto a zona ma mania è biscotti ciao